Nel comune di Teramo sono 700 i nuclei familiari che vivono ancora fuori casa dopo il terremoto del 2016. La maggior parte di loro è rappresentata dagli inquilini ATER. Ad ogni famiglia viene assegnata una cifra per l'autonoma sistemazione con un costo bimestrale di 1.200.000 euro erogati dalla protezione civile ma anticipati dall'amministrazione comunale. Il 15 settembre è il termine ultimo per richiedere il contributo CAS e il comune ha messo a disposizione degli utenti uno sportello al Parco della Scienza dove i volontari del CSV di Teramo assistono i cittadini nel compilare la richiesta. Doveroso da parte dell'amministrazione è un ringraziamento al CSV che si è messo a disposizione per l'apertura di questi due punti, questi due sportelli che servono soprattutto per dare aiuto a tutte quelle persone che devono ripresentare la domanda per i requisiti del CAS e che in questa nuova forma, cioè questa telematica, avevano avuto grandi disagi. Il 15 settembre è la data ultima per presentare l'istanza quindi oggi noi ricordiamo a tutti quanti di venire qui, di recarsi agli sportelli e di presentare la domanda appena altrimenti esclusione dal CAS. Quante persone hanno bisogno del CAS? Attualmente contiamo ancora 700 nuclei, la gran parte dei nuclei è riferita agli inquilini delle case ATER, quindi dell'edilizia popolare, mentre l'edilizia privata stanno andando avanti quindi bene o male molti nuclei sono rientrati in casa. Ogni due mesi il Comune di Teramo ha deciso da quest'anno di anticipare il CAS quindi con fondi propri che poi verranno rifondati con i soldi della protezione civile che purtroppo è spesso in ritardo. E se la ricostruzione privata procede abbastanza celermente, il sindaco d'Alberto parla dell'80% di pratiche risolte, la ricostruzione pubblica segna il passo e i cittadini sono davvero esausti, molti di loro vivono ancora in albergo da sette anni. In maniera sinergica dobbiamo portare avanti questa ricostruzione perché non è più concepibile che gli abitanti dell'edilizia popolare stiano ancora fuori casa. Dal 2016 ad oggi qual è la sua storia? Una storia è uguale a tutti gli altri paesani spiano che stiamo attendendo che si faccia tutte le abbrugazioni delle case e su non è mai stato possibile dal 2016 ad adesso avere qualcuno che si impegnasse veramente a ricostruire il paese, siamo abbandonati a noi stessi.